Buongiorno amici di Connessioni, siamo a ISE 2018, il nostro quinto anno di presenza a questa fiera internazionale. Siamo qui per curare sia i nostri clienti italiani che ovviamente tutti i nostri rivenditori che da tutto il mondo stanno arrivando in questa fiera. Anche quest'anno abbiamo una grandissima fluenza, siamo molto contenti di essere presenti e presentiamo la nostra piattaforma Jade dedicata al Digital Sanage per ambienti sia retail che corporate. Quest'anno abbiamo come novità un'applicazione molto semplice che chiameremo Jade Easy, disponibile in cloud per player Spinetics e per monitor LG WebOS. Un'applicazione estremamente semplice con cui preparare il proprio palinsesto in soli tre clic. Oltre a Jade Easy che è la novità di quest'anno abbiamo introdotto alcune funzionalità nuove nel sistema per quanto riguarda la comunicazione specialmente per le meeting room, migliorando ulteriormente l'interfaccia utente per la gestione delle frecce direzionali all'interno di edifici che automatizza di nuovo il compito per raggiungere il punto desiderato nelle sale riunioni o meeting room. La piattaforma Vumi Jade che abbiamo appena visto non solo è caratterizzata da un'estrema affidabilità del sistema per la quale Vumi è nota sul mercato, ma abbiamo tutta una serie di strumenti di back office che permettono direttamente ai clienti finali di intervenire sul palinsesto, sulla messaggistica, sui listini prezzi piuttosto che addirittura dei telecomandi virtuali che sono caricabili su tablet o mobile per gestire automaticamente la comunicazione in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche uniche all'affidabilità riusciamo a garantire un risultato in brevissimi tempi con tempi di installazione assolutamente certi e con bassissime richieste di intervento negli anni successivi all'installazione. Grazie. Grazie.